Il gruppo perché ormai è chiaro che oltre a qualificazione c'era in ballo un risultato importante, bello perché pareggiare Firenze contro questa Fiorentina sarebbe stato un valore aggiunto e peccato perché ci siamo fatti sorprendere in una situazione che era gestibile in maniera diversa però se uno ripensa al percorso di questa settimana e a quello che è stato fatto devo solo dire bravi ai ragazzi che hanno centrato il risultato, credo storico, per questa società se non sbaglio erano 15 anni che il Perugia non tornava tra i primi sedici e il torno di Viareggio e l'abbiamo fatto nella maniera migliore perché abbiamo lottato tutte e tre le partite negli altri due avevamo vinto il novantesimo e abbiamo perso però siamo stati lì e penso che la partita di oggi, la prestazione di oggi confermi che le prime due partite non erano assolutamente un caso ma che questa squadra sta completando un percorso di crescita e questa vetrina, questo palcoscenico lo meritano in tutto e per tutto Mi chiede qualcosa anche sulla Fiorentina che ha visto oggi?